Sì, ma ci stai giusto? Invece di andare a montare il suco, per esempio, si può montare il suco. No, non è giusto, 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 non è giusto. Sì, ma la prima volta èuta, abbattata, non è giusto. Vedo il cuore ha detto, avevo marito sul vostro, però dove ah �incato il DOXIS. Nostro qualcosa di un altro, vabbiamo il mondo sc yeast, vabbiamo poco, l'irlandise la cosa no è non è tutto è tutto e tutto è tutto è tutto è tutto è la una No Quanto è il tigre? Il tigre si guarda qui? Onde sta il tigre? Il tigre si guarda qui ci sono molto animali Per il fuoco di feria Il tigre si guarda qui? Il tigre si guarda qui? Il tigre si guarda il tigre Il tigre si guarda qui no no pantera hai a già hai condito non 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 è che si è si è che si è Questa è la mia casa? È un capito, ma ci sono un capito in pieno Attra a casa, a casa a casa È lì, è lì, è lì Vedi! Vedi! Molto bene! a me sta asumando te come ci sta andando? e che ti viene da? e sposto? è il ponte è il ponte è il ponte loro è in pomonte loro loro è il ponte loro No, non lo vedo Un'altra zona di messa Un momento, un po' caloi Stai di trezzo Stai di un po' il passero L'uomo Eccolo Si è gigante Sì No no se che anima sta qui non vedo nessun animale non vedo nessun animale seem to be scones non vedo nessuno adesso i amati anche i amati oggi i amati oggi i amati i amati sono tutti descansando Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.